Le tragedie nel Nord Africa e in Libia potrebbero essere oltre 10.000 le vittime per le alluvioni. In Marocco, dopo il sisma e emergenza sfollati, al termine dell'udienza il Papa prega per le popolazioni così duramente colpite. Tensione a Lampedusa, dove nelle ultime 24 ore sono arrivate più di 5.000 persone. 8 spot allo stremo. Durante uno sbarco muore uno nato di appena 5 mesi. Esplosione in fabbrica a Casalbordino, in provincia di Chieti. Tre operai sono morti, la ministra Calderone, vicinanza ai familiari delle vittime. Torna in piazza la protesta per il caro affitti. Oggi a Milano un gruppo di circa 20 persone è tornato a chiedere interventi di fronte al Politecnico di Milano. 20-31 minuti, una manciata ai secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Le alluvioni in Libia, dunque. Le vittime sarebbero oltre 10.000. La città di Derna è stata in parte cancellata dalla violenza dell'acqua. Una calamità di proporzioni epiche secondo le Nazioni Unite. Sentiamo Beatrice Bossi. Continua senza sosta per il terzo giorno consecutivo la ricerca dei corpi tra le macerie. La tempesta, Daniel, non ha dato scampo alla Libia. Domenica la pioggia si è abbattuta sul paese mentre le città dormivano. L'ONU parla di calamità naturale di proporzioni epiche. È nella città di Derna, sulla costa nord-orientale, che si registra la situazione più critica. Qui il collasso di una diga ha spazzato via interi villaggi. La devastazione è nitida anche dalle foto satellitari. Sono oltre 5.300 le vittime, secondo le stime almeno 20.000, quelle ancora sommerse dal fango. La televisione mostra il mare che restituisce altri cadaveri, mentre sulle strade si ammassano i corpi ancora da identificare. Un incubo per gli oltre 34.000 sfollati che piangono i morti e combattono per la sopravvivenza. La comunità internazionale si è mobilitata. Gli Stati Uniti hanno attivato un fondo di emergenza e l'Europa sta inviando aiuti attraverso la protezione civile. Da Pisa, nel primo pomeriggio, è partito il primo aereo militare italiano. Non meno tragica la situazione in Marocco, devastata da un violentissimo sisma nei giorni scorsi. Lì ora l'emergenza principale è sostenere e accogliere migliaia di sfollati. Fabio Bolsetta. Imana ha 19 anni ed è tornata fra ciò che resta della sua casa a Atalataniakouba, epicentro del sisma. La fase di ricostruzione richiederà mesi o forse anni. A dichiararlo è il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat e presidente di Caritas a Marocco, che pone l'accento sulla grande dispersione della popolazione che necessita aiuti. Comunità piccole ma numerose e in una vasta estensione di territorio, sottolinea in zone di alto piano che era già difficile raggiungere prima della distruzione delle strade. Il bilancio delle vittime, quasi 3.000 persone hanno perso la vita per le conseguenze del sisma della notte tra venerdì e sabato con epicentro a 70 chilometri da Marrakesh. È corsa contro il tempo, poche le speranze tra chi scava tra le macerie e per i superstiti servono alloggi, coperte e farmaci, ricorda ActionAid. Perché nelle zone terremotate c'è ancora molta gente che dorme la diaccio. Ieri il re del Marocco, Mohamed VI, è riapparso in pubblico facendo visita ai superstiti ricoverati a Marrakesh e ha donato il sangue per i sopravvissuti. La guerra in Ucraina tra Russia e Corea del Nord si stringe un'intesa anche militare. Intanto sul campo Kiev sferra un attacco in Crimea e colpisce Sebastopoli. Vito De Torre. L'Ucraina colpisce di nuovo la Crimea. Una grande nave d'assalto della marina militare russa e un sottomarino sono stati danneggiati in seguito ad un attacco missilistico al cantiere navale di Sebastopoli nella Crimea occupata. La conferma arriva dal Ministero della Difesa di Mosca. Il cantiere navale colpito è strategico perché è una base della flotta russa impegnata nel Mar Nero. Proprio dal Mar Nero le navi russe hanno lanciato numerosi attacchi con droni e missili contro l'Ucraina. Putin non ha commentato quanto accaduto e anzi ha sottolineato gli scarsi risultati ottenuti finora dalla controffensiva ucraina. Il capo del Cremlino oggi ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un strette di mano e cordialità con il dittatore comunista di Pyongyang. La Russia ha promesso collaborazione nella costruzione dei satelliti militari. Kim Jong-un, dal canto suo, ha espresso massima solidarietà a Mosca nella sacra lotta. Così ha dichiarato il leader supremo della Corea del Nord contro l'imperialismo occidentale. Secondo indiscrezioni, la Corea del Nord sarebbe pronta ad inviare a Mosca armi tattiche nucleari. A Kiev, intanto, il ministro della difesa ucraino, Kuleba, ha sollecitato la Germania a fornire nuovi sistemi di difesa per proteggere i suoi porti dagli attacchi aerei russi, per garantire che il grano possa essere esportato. Rivolgendosi al governo tedesco, il ministro degli esteri ucraino ha detto «Non capisco perché stiamo perdendo tempo». Per cercare di tessere la tela della pace, il cardinale Matteo Zuppi è da oggi in Cina. Si tratta della quarta tappa della missione dell'inviato del Papa dopo Kiev, Mosca e Washington. Ci aggiorna Cristiana, caricato. Dopo Kiev, Mosca e Washington, l'asse della diplomazia vaticana si sposta ad Oriente. Il cardinale Matteo Zuppi è a Pechino per una visita di tre giorni che mira a un coinvolgimento diretto del dragone nella ricerca della pace sul fronte orientale dell'Europa. Incoraggianti le dichiarazioni di Mao Ning, la portavoce del ministero degli esteri cinese, che ha assicurato l'impegno del governo di Pechino per svolgere un ruolo attivo nel promuovere colloqui di pace, lavorando con tutte le parti, per ridurre la tensione e raffreddare la situazione in Ucraina. Sempre Mao Ning ha anticipato nelle scorse ore l'agenda di Zuppi, che prevede un faccia a faccia con Li Hui, rappresentante degli affari euroasiatici. Secondo indiscrezioni, l'arcivescovo di Bologna potrebbe anche incontrare Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli esteri cinese, che già nel febbraio del 2020 aveva dialogato con l'arcivescovo Paul Gallagher al margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Una visita a Lampo, quella del presidente della CIA, è seguita con attenzione dagli osservatori, non solo per individuare i percorsi verso una pace giusta, ma anche per testare le relazioni sempre complesse tra Pechino e la Santa Sede. Papa Francesco, all'udienza generale, è invitato a pregare per la guerra in Ucraina, ma anche per il Nord Africa, devastato da alluvioni e terremoto. Paolo Fucili E per favore, fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la pace nel mondo, specialmente nella martoriata Ucraina, le cui sofferenze sono sempre presenti alla nostra mente e al nostro cuore. Pace per l'Ucraina in particolare e solidarietà con le vittime delle calamità naturali in Nord Africa sono i pensieri di Francesco in Piazza San Pietro, il terremoto in Marocco e le disastrose inondazioni sulla costa della Libia. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i loro familiari e per gli svolati. Udienza del mercoledì dedicata al venezuelano beato Jose Gregorio Hernández Cisnero, vissuto fra 800 e 900, ultimo ritratto della galleria di esempi di zelo apostolico che Bergoglio va proponendo di settimana in settimana, non potendo farsi sacerdote, e divenne medico, professore e scienziato dedicando la vita ai malati più poveri e sofferenti e così, commenta il Papa, ci stimola all'impegno nelle grandi questioni sociali e politiche di oggi. Tanti ne parlano, tanti ne sparlano, tanti criticano e dicono che va tutto male, ma il cristiano non è chiamato a questo, pensi a occuparsene, a sporcarsi le mani. Ultimo discorso sullo Stato dell'Unione oggi per la Presidente della Commissione Europea, uno sguardo a tutto campo sulla situazione dell'Europa e l'annuncio di un incarico per Draghi, perché stili un report sul futuro della competitività. Giuseppe Caporaso. Interviele su tutti i temi caldi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen davanti all'Assemblea plenaria. Abbiamo assistito a detto alla nascita di un'Unione geopolitica sostenendo l'Ucraina e resistendo all'aggressione della Russia. Il futuro dell'Ucraina nella nostra Unione, come il futuro dei Balcani occidentali e della Moldova. Non immagino comunque una strada facile, ma l'allargamento all'Unione Europea sarà esclusivamente basata sul merito. Poi l'economia, con tre grandi sfide, la carenza di manodopera e competenze, l'inflazione e la semplificazione per le aziende. Ed ancora continuerà la politica del Green Deal. Partirà un'indagine sui sussidi alle auto elettriche cinesi e verrà chiesto all'ex premier italiano Mario Draghi di redigire il rapporto sul futuro della competitività europea. Nel suo intervento anche un appello per fermare la violenza sulle donne. Infine uno sguardo della Fonderlein sulla gestione dei migranti che sia efficace ed umana e chiede a tutti di mostrare nei confronti dell'Africa l'unità come è avvenuto con l'Ucraina. Cooperare con i governi legittimi, sviluppare un partenariato reciprocamente vantaggioso per Africa ed Europa. Andiamo a Lampedusa, dove la situazione è sempre più critica. Oltre 5.000 le persone migranti sbarcate nelle ultime 24 ore. Ce ne parla Alessandra Camarca. A Lampedusa la situazione è sempre più critica. I moli sono stracolmi di persone che attendono di essere trasferite o accolte temporaneamente nel centro d'accoglienza. Sono 6.000, secondo la Croce Rossa, i migranti approdati sull'isola nelle ultime 24 ore che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nell'hot spot nel centro dell'isola che ormai è allo stremo. Le immagini girate nel pomeriggio all'interno del centro d'accoglienza mostrano attimi di tensione tra gli stranieri all'interno della struttura. Diversi ospiti sono stati visti anche allontanarsi autonomamente dall'hot spot di Contrada Embriacola. Secondo la Croce Rossa, sono stati oltre 100 gli sbarchi registrati nelle ultime ore. La situazione nell'isola è tragica, drammatica, apocalittica. Ha detto oggi il parroco dell'isola Don Carmelo Rizzo. Lampedusa ha aggiunto, non si smaltisce nemmeno la spazzatura, l'acqua per l'isola arriva dalla terraferma. Tante sull'isola e famiglie di migranti con minori. Un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in acqua poco prima che la sua imbarcazione, con 46 migranti provenienti da Tunisi, riuscisse a raggiungere l'isola siciliana. La mamma del bimbo deceduto è una minorenna, attualmente è nel centro d'accoglienza di Lampedusa. Nuovo tragico incidente sul lavoro. Tre operai sono morti in provincia di Chieti per una violenta esplosione nella fabbrica Sabino Esplodenti di Casalbordino. Ci aggiorna Raffaella Frullone. Non torneranno a casa questa sera Giulio Romano, originario di Casalbordino, in provincia di Chieti, Fernando Dinella, Di Lanciano e Gianluca De Santis, quarantenne, sposato e padre di due bambini e residente nel comune di Palata, in provincia di Campobasso. I tre operai hanno perso la vita questo pomeriggio per un'esplosione che si è verificata per cause ancora da accertare alla Sabino Esplodenti, azienda per il recupero di materiali da munizioni militari e attività di smilitarizzazione. Si continua a morire di lavoro. È inaccettabile e inconcepibile, afferma il segretario generale della CGL di Chieti, Franco Spina, che poi aggiunge ci troviamo a commentare con profondo dolore l'ennesima tragedia sul lavoro. Tre operai hanno trovato la morte, tre lavoratori non torneranno mai più dai loro cari. Non è la prima tragedia del lavoro ad avvenire nell'azienda di Casalbordino. Nella stessa fabbrica, nel 92, era morto il 48enne Bruno Molisani, fatale per lui l'innesco di una spoletta, mentre nel 2009 due persone sono rimaste ferite in modo grave, ancora per un'esplosione. La notizia arriva proprio mentre al Senato si discute di sicurezza sul lavoro all'indomani della strage di Brandizzo. Il ministro del lavoro, Marina Calderone, si dice vicina ai familiari delle vittime, mentre il sindaco di Lanciano proclama una giornata di lutto cittadino. Ancora episodi di violenza sulle donne a Napoli, in Alto Adige, dove la vittima ha solo 14 anni. Oggi pomeriggio a Salemi, l'ultimo saluto a Marisa Leo, uccisa dal padre della sua bambina. Lucia Scione. Le donne vengono sopraffatte molto spesso per amore, vittime delle relazioni tossiche, narcisistiche, dove non si comprende che dall'altra parte ci sia una persona che travalica quello che è il vissuto del sentimento del rispetto e arriva fino ad uccidere per non sentire la presenza dell'altra dentro la propria vita affettiva, emotiva e relazionale. Sopraffatte anche se compagne di vita e madri come Marisa Leo, di cui oggi si sono celebrati i funerali nella chiesa madre di Salemi. Violentate anche se sconosciute ai carneifici come la donna di origine colombiana sequestrata da quattro uomini dentro un container nei pressi della stazione centrale di Napoli. O come la quattordicenne abusata durante una festa di paese in Alto Adige. Una barbarie inaudita che chiede anche alle donne una nuova presenza. Una cultura della solidarietà tra rete di donne, perché le donne molto spesso sono le prime ad essere in competizione o a non chiedere aiuto e queste storie invece che abbiamo osservato negli ultimi giorni ci insegnano come la solidarietà e la rete relazionale interpersonale talvolta può salvare vite umane. Tornano le lezioni all'università e tornano le proteste contro il Caraffitti. A Milano gli studenti sono tornati a montare le tende di fronte al Politecnico. Giorgia Bresciani. 700, 800, anche 900 euro al mese spese escluse per una stanza singola. A Milano gli studenti sono tornati a piantare le tende davanti al Politecnico per protestare contro il caro affitti. Io vago 570 euro per una stanza più spese. resa comunque tempo fa post-Covid. Adesso nella mia stessa zona sono a 950 stanza, solo stanza, senza spese, sempre. L'estate spiega in una pausa estiva piena di promesse non mantenute. Le promesse sono state davanti, anche fatte dal Comune, delle promesse che alla fine sono delle promesse senza fondamento. Per esempio l'ho studentato diffuso, quei 600 posti che sono stati proposti senza avere dei fondi per realizzare il progetto. quindi ci rendiamo molto presi in giro e speriamo che si possa fare di meglio e quindi siamo qui per questo. In cantiere ci sono già iniziative di mobilitazione per il prossimo fine settimana. Nel 16-17 appunto faremo qui e ci sarà questa assemblea nazionale quindi con più realtà tutta Italia per parlare, per discutere e riuscire a trovare magari una mobilitazione comune o una sorta di piano comune su cui agire. Protestano per sé per gli altri studenti ma anche per lavoratori e famiglie che come loro rischiano di non poter più nemmeno pagare l'affitto. Per limitare e gestire i flussi turistici Venezia vara ufficialmente il ticket d'accesso alla città dal 2024 con prenotazione online e pagamento di 5 euro a persona. Ce ne parla David Murgia. Primavera 2024 segnatevela questa data perché i turisti che vorranno arrivare a Venezia in giornata senza soggiornare in una struttura alberghiera della città dovranno pagare un biglietto d'accesso di 5 euro a persona e prenotare online il proprio ingresso a Venezia. Quindi dalla prossima primavera e per un periodo sperimentale di 30 giorni Venezia sceglie ufficialmente il ticket d'accesso alla città. Penso che sia abbastanza giusto costa molto mantenere la città così com'è quindi pagare un po' perché ciò accada penso che sia davvero importante. Non sono molto contento di questo ma sono contento di essere qui quest'anno quindi non mi importa molto tra qualche anno forse tutto sarà di nuovo diverso. La prenotazione riguarderà tutte le persone che vorranno accedere a Venezia così da dare al comune un'idea il più precisa possibile dei flussi mentre il pagamento sarà limitato a una serie di categorie specifiche in poche parole la novità riguarderà i visitatori giornalieri a non dover versare alcun contributo saranno i residenti del comune di Venezia i lavoratori dipendenti autonomi pendolari inclusi così come gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuola e università che hanno sede in città antica o nelle isole minori. Io sono pienamente d'accordo però 5 euro non sono sufficienti io metterei 50 euro al giorno perché Venezia non è più in grado di sopportare questi numeri Venezia è troppo fragile non è una città normale non siamo veramente più in grado di accogliere questi turisti giornalieri che alla fine cosa lasciano? Spazzatura e da chi viene pagata la spazzatura? dalle tasse dei veneziani il via libera definitivo è arrivato con l'approvazione 24 voti a favore 12 contrari da parte del consiglio comunale del regolamento sul contributo d'accesso introdotto da una legge del 2019 attenzione per chi non paga sono previste multe tra i 50 e i 300 euro Testimone di speranza L'audacia tenere di Don Pino Puglisi è il titolo del documentario inedito e prodotto da TV 2000 in onda stasera sulla nostra emittente alle 20 e 55 e dedicato al sacerdote assassinato 30 anni fa dalla mafia tutti ricordano Don Pino Puglisi come il parroco di Brancaccio una delle periferie più difficili di Palermo ucciso dai killer dei clan per il suo impegno di educatore pastore che si prendeva cura con amore della sua comunità dunque appuntamento alle 20 e 55 ed è tutto vi lascio dunque al docufilm Testimone di speranza L'audacia tenera di Don Puglisi a tutti un buon proseguimento di serata arrivederci